Abbiamo innalzato i cartelli ladri di giustizia perché il governo e la maggioranza che lo sostiene stanno rubando la giustizia agli italiani. Questo è un provvedimento iniquo, i delinquenti ringraziano, i processi per mafia si allungheranno all'infinito, pedofili, sfruttatori, banditi vari diranno grazie a questo governo. I processi si allungano, nessuno sarà condannato e la giustizia italiana sarà definitivamente sfasciata.